Tornano agli incontri del Madimex 2024. Nella serata di ieri al Teatro Fusco, Daminivich e Tormento, rapper e produttore discografico, hanno dialogato su due figure importanti del mondo della musica, come Notorious e Tupac, simboli del conflitto tra la scena hip hop dell'East e West Coast negli anni 90. Iniziata come una competizione artistica, ben presto degenerò in violenza e culminò con l'uccisione di entrambi, mentre la loro musica ha lasciato un'impronta importante nel mondo del rap. Al di là della loro tragica morte e della violenza che hanno rappresentato negli anni 90, cosa hanno lasciato nella scena hip hop e alle nuove generazioni Tupac e Notorious? La lezione più grande che ci ha dato sempre l'hip hop fin da quando eravamo piccoli è un po' una rivalza che puoi avere sulla società. Se coltivi il tuo stile, quella era proprio la storia dell'hip hop degli anni 90. Coltiva chi sei, scopri le tue particolarità e fai in modo che tu riesca a portarle al 100% delle loro potenzialità, diventa unico e quindi sono tutte cose che purtroppo nella società di oggi invece che è molto omologata e coi social bisogna sempre o somigliare a qualcuno o apparire come qualcun altro che abbiamo già visto, è sicuramente forse un po' un discorso lontano dai nostri tempi. Invece proprio per questo è importante ricordarlo perché ognuno di noi è proprio nella creatività e nel ricercare ciò che ci rende veramente unici e particolari, davvero può trovare una chiave per essere felice a priori, al di là del successo che puoi avere personale, coltivare la propria passione ti dà davvero degli stimoli e dà veramente un senso molto più profondo alla vita.